5. Diamoci una mossa! Diamoci una mossa, questo il tema lanciato per l'edizione 2022 della settimana mondiale dell'allattamento materno. Diamoci una mossa a supportare, a aiutare. Noi ce la siamo immaginata come una scacchiera, dove la regina sta al centro, che è la mamma, e le altre pedine si devono muovere perché questo gioco funzioni. Se non si muovono tutti, nessuno vince. L'azienda sanitaria anche quest'anno ha deciso di fare squadra con le mamme peer del territorio con iniziative per promuovere e sostenere l'allattamento al seno. Noi dei servizi consultoriali siamo veramente orgogliosi e tenuti soprattutto a sostenere le neomamme affinché possano sentirsi veramente le protagoniste di questo evento. Tra le iniziative per promuovere la pratica dell'allattamento, un flash mob allo spazio mamma di Arezzo. L'allattamento è molto importante, tante cose insieme. È nutrimento, ma è nutrimento anche emotivo, è coccola, è rassicurazione, è stare insieme, è vero? E quindi è tanto importante. Però è anche vero che può essere complicato, può essere complicata la partenza e può essere complicato a volte la gestione. Quindi avere appunto un'ancora di salvezza anche proprio emotiva serve tanto. A breve infine il nuovo corso per le mamme alla pari, madri che offrono un sostegno volontario alle altre mamme subito dopo la nascita di un bambino. Ho deciso di diventare una mamma alla pari per dare sostegno alle altre mamme in questo momento di cambiamento che non sempre è facilmente gestibile e soprattutto anche per cercare di proporre un futuro migliore anche a mia figlia.